È stato consegnato alla città il nuovo forno crematorio, sorto accanto al cimitero comunale. Un edificio di 1200 metri quadrati, composto da una sala commiato predisposta per ogni tipo di rito religioso e non, da un giardino con roccia e cascata per la dispersione delle ceneri, dagli uffici e da un forno all'avanguardia. La società Osiride ha progettato, realizzato e gestirà la struttura. Il progetto dell'architetto Rasori ha l'ambizione di evocare un senso di pace e di tranquillità nel momento del distacco del proprio estinto. La sala principale è la sala del commiato, che è caratterizzata da ampie finestrature che danno sul giardino d'ingresso e sul giardino dei ricordi, che è proprio questo alle nostre spalle, che è una sorta di giardino zen con una cascatella dove si può aspargere le ceneri dei propri cari per chi vuole. Presente all'inaugurazione il sindaco Paolo Dosi, l'assessore ai servizi al cittadino Giorgia Buscarini, l'ex assessore Katia Tarasconi e l'ex sindaco Roberto Reggi. Fu allora una scelta di civiltà con un investimento che facciamo con la modalità solita, in concessione e gestione con l'aiuto dei privati che fecero l'investimento e faranno la gestione facendo risparmiare i piacentini e dando loro la possibilità della cremazione proprio direttamente qui a Piacenza senza dover emigrare in altre città, avere dei costi più alti. Insomma pensiamo di aver fatto un bel servizio per i cittadini. Gianmarco Maffini del comitato Amici del Capitolo critica la scelta della precedente amministrazione per quanto riguarda la location. Ci siamo trovati ancora questa struttura in più, in una zona già completamente satura da inquinamento, loro dicono che assolutamente inquina pochissimo ma inquina sempre lo stesso, basta andare su internet, su qualsiasi sito e si vede benissimo che una percentuale di inquinamento lo porta a questo forno crematorio, in più se poi lo notiamo non ha neanche un cammino alto per cui questa è ancora una ripercussione più vicina all'inquinamento alle abitazioni. Il costo per ogni singola cremazione è di 490 euro e l'impianto può gestire fino a una dozzina di operazioni al giorno.